Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it sempre aggiornato 24 ore su 24 sportpress.it Cosmate Angori, vigilia di gara 2 dei quarti playoff a 100 hai detto alla fine di gara 1, rivedremo la partita vedremo se ci sarà qualcosa da cambiare, c'è qualcosa da cambiare? Sì sicuramente come ho detto ai ragazzi io penso che sia stata una partita dove non c'è tutto da buttare anzi abbiamo fatto anche ottime cose è ovvio che come ho già detto alla fine del match 91 punti non li possiamo concedere quindi sicuramente la nostra attenzione si è spostata in maniera importante sull'aspetto difensivo dove dobbiamo mettere a posto un po' di cose dobbiamo essere più aggressivi ed essere anche pronti a essere un po' più smart nel non concedere canestri facili soprattutto in situazioni dove non eravamo in bonus però i ragazzi sono consapevoli che la nostra crescita deve passare dalla difesa oggi faremo l'ultimo allenamento prima della partita di domani quindi siamo fiduciosi di farci trovare pronti domani per gara 2 La storia dei playoff sostanzialmente a qualunque livello quasi insegna che mai due partite ravvicinate sono una simile all'altra ti aspetti anche tu domani una gara diversa da gara 1? Sicuramente gara 1 ci ha dato delle indicazioni queste indicazioni noi le vogliamo fare nostre e farci trovare domani pronti sicuramente una serie playoff a differenza di una partita secca la bravura oltre nel recuperare forze deve essere quella di tra virgolette dimenticare quello che è successo io penso che in una serie playoff perdere gli 1 o perdere gli 18 cambia poco la partita è comunque persa fare tesoro degli errori che abbiamo fatti e farci trovare pronti domani perché domani ripartiamo da 0 a 0 L'ultima cosa che ti chiedo calcolando che ti sei soffermato sull'aspetto dei 91 punti subiti in gara 1 la convivenza offensiva di alcuni giocatori può essere più semplice dell'organizzare una convivenza difensiva? Sicuramente dovremmo essere bravi noi in certi tratti, in certi momenti anche a mascherare le nostre piccole lacune difensive ma io credo che i ragazzi siano completamente consapevoli su quello che devono migliorare quindi sono sicuro che si prenderanno le loro responsabilità e riusciranno a trasformare la partita di domani in un'occasione per fare molto meglio Ha referto gli stessi di gara 1? Sì Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it sempre aggiornato 24 ore su 24 sportpress.it